Perfetto, eh, zero, eh. Non ho visto i tempi, ero più due. Ciao, Pasquale, 73. Ciao, 73. Ciao, papà, Italia, l'era. La città di Massacarrara, la città di 5, che è quella di Parma in zona 4. Sto spegnando un prededittore del genere. Oscar Pelle, punto H, questo è lui. Oscar Hotel, Fabio, ciao, 59, Fabio. Perfetto, 59, 23, tutto sicuramente l'attività, la tua seconda, ciao. Altre, per la partizione, ciao, India, India, 5, papà, India, Sera, Correfe. Italia, 2, 0, Giulietta, Bravo, Mike. Italia, 2, 0. Giulietta, Bravo, Mike. Italia, 2, 0, Giulietta, Bravo, Mike. Questa è l'incursione, Giulietta. Italia, 2, 0, Giulietta. Mike, Roger. No, 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 ok. Ecco, dettemi il nominativo perché è l'Italia che è male, la stima, 0. Diventa, 0, bravo. Diventa, 0, bravo. L'incursione con Bravo in scara, vado. Italia, 2, 0, 0, bravo, Mike. Italia, 1, Giulietta. Ci vuol significa? Ok QSL, adesso ti ho preso grazie alla cortesia dell'altra stazione, Maurizio, 659, Maurizio, QSL. QSL, vuole per te, 69, vuole per te, ok, mi metti all'occhio per costruire anche l'Italia QS-0 Charlie Vittor, le stazioni civile ai cari, grazie. Sicuramente, interita nel log, QS-0 Charlie Vittor, ringrazio, ciao e... Allora, per te, il QS-Tango, un premis 3. Per prendere il QS-0, il QS-Tango, sempre modulante qui, anche, no, no, ti ascolto perfettamente, so, che poi io, diciamo, il nome dell'euro, ecco, ci siamo a quello del telefono. Dato, dà la recessione di tutti i punti qui, eh, mi fa la recessione, capito? E praticamente quando mi hanno lì mi manda, mi manda sia il nominativo che, sì, come se metti il nome, tante volte, vai sull'apparata esce solo il nominativo, sul telefono che dà nominativo il nome ok comunque io sono andato con un portatile con G7 con G77 è un portatile però è staccato con l'antendina con una interferenza a tenere i 2-0 la potenza sono 400 watt ciao 73 grazie per la partecipazione per la zeta in lingua 5 papà in via sierra Italia, Venezia, 3 canadacio 3 canadacio 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 Francesco, 5,9 Francesco, avanti ok, 5,9 per tegras seguire, buon procedimento 7,7,73 in lingua 5 papà in via sierra cuore dietro 8,8 8,8 GOLP, GOLP, JULU bonjour ciao Il 5 è lima, ciao, il lima. Il 5 è lima, ciao, il lima, Marco, ciao, 5, 9 Marco. Il 5 è lì, 5, 9, anche per te, buona continuazione, ciao. Il 73, Italia, Italia 5, Papa India, Sierra, Core Z. niente si è arrivato strappato è incomprensibile comunque di nuovo con la buona giornata scusami italianorvegia 3 tango florida radio antonio ciao antonio 59 antonio questa è mia grazie a te per la participazione c'è antonio india 15 papà india sierra 4 z 23 novembre 5 novembre l'ultima grazie per la chiamata ciao india 5 papà india sierra 4 z 5 radio bravo ienchi 5 radio bravo ienchi se già no grazie a te per la chiamata